Per dire che il nostro futuro, la nostra istruzione sta nella scuola pubblica, proprio in quella scuola ridotta a macerie, messa in ginocchio dai continui tagli attuati in questi anni dal governo. Siamo in piazza per dire che siamo indignati, che ci difenderemo il nostro futuro per ogni mezzo necessario. Noi la crisi, noi la parliamo!